Ecco oro e argento! Ma qualcosa è andato storto! Facciamo a cambio! Ora va meglio! Ciao! È da un po' che non ti vedo! Stai benissimo, ovviamente! Che cos'è? Un concorso? Non mi interessa! Neanche a me! Scusa, devo andare! Sono in ritardo anche io! Un applauso per argento! La prossima è co-oro! Applausi! Il prossimo concorrente! Chi è? Il vincitore del premio Mocio d'oro dell'anno! Io e il mio meraviglioso Mocio ci meritiamo di vincere il primo premio! Non sapevo nemmeno che questo premio esistesse! Sto morendo di fame! Le patatine d'oro sono un ottimo spuntino per i VIP! Mh, deliziose! Adoro viziarmi! Ricopri le patatine fritte con polvere di parla e commestibile! Avvolgi la confezione originale nel cartone dorato! Attacca il logo personalizzato delle Pringles! Riempi la confezione con le patatine fritte d'oro! Cosa c'è di così brillante? Wow! Quelle patatine sono davvero d'oro! Ciao! Aspettavo la tua chiamata! Wow! Che fortuna! Ci sono delle briciole di patatine d'oro! Non lascio niente! Adoro quando tutto è pulito! Devo nasconderle in un posto sicuro! Mi faccio un bagno di bolle e mi concedo una vera giornata di benessere! Che bello! L'acqua d'argento è ottima per rilassarsi e tonificarsi! Farò un pisolino! Argento dorme! Posso iniziare il sabotaggio! Comincerò con una bomba da bagno d'oro! Trasformiamo l'acqua in oro! Mescola 200 g di bicarbonato di sodio e 100 g di acido citrico! Aggiungi il colorante alimentare, qualche goccia di olio essenziale di vaniglia e versa 30 g di burro di cacao fuso! Mescola in modo che sembri sabbia! Forma una pallina con mezze sfere mentre la miscela è ancora bagnata! Rivesti la palla con polvere di perle non appena asciutta! Perché c'è dell'oro qui? Vattene! Aiuto! Sono allergica all'oro! Ah! Era solo un sogno! Ma era orribile! Buon pomeriggio a tutti! Sono Argento! Questa è la mia performance per il talent show! Un bel ballo! Yo, yo, yo! Che disastro! Aspetti! Ho un altro ballo! Bam! 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 Oddio! Posso anche dipingere! Le farò un ritratto! Cosa? Interessante! Dovrei sedermi così! Fantastico! E non si muova! È nato per i ritratti! Ancora un po' qui e un po' qui! Grande! Il ritratto è quasi finito! Ancora qualche tratto e... Voilà! Dia un'occhiata! È perfetto! È terribile! Fuori di qui! Quando esco sul palco... Cosa? Un concorso di talento! Me ne ero proprio dimenticata! Cosa faccio? Un'ananas! Non c'è altra scelta! Eccomi qui! E trasformerò questo ananas in oro! Voilà! Rivesti un'ananas con vernice spray d'oro! Wow! Incredibile! Puoi fare anche quest'acqua d'oro? Acqua? Facile! Wow! Aspetta! Non andare via! Cos'altro si può trasformare in oro? Puoi trasformare il mio telefono? Ma certo! Oh, quanto oro! Non credo ai miei occhi! I miei capelli! Sono dorati! Brava! Sei la migliore! Hai vinto il concorso per talenti! Oh, grazie mille! Ora tocca a me! Proverò il diadema! Ragazze, siete pronte? Wow! Oro! Hai un aspetto fantastico! Ah, è di nuovo lui! È così fastidioso! Argento! Anche tu sei... Meravigliosa! È così carino! Probabilmente ha una cotta per me! Oh, tutto ma non questo! Questo rossore è terribile! Solo il mio luccichio d'argento può salvarmi! Unisci il tonico per il viso e l'acqua floreale. Aggiungi qualche goccia di profumo o di olio essenziale. Mettici della polvere argentata. Versa il tutto in un flacone spray. Aggiungi un'etichetta. Ecco fatto! Il rossore non c'è più! Questo prodotto è magico! I miei capelli sono perfetti! Ora posso fare uno spuntino! Il cioccolato d'argento è il mio preferito! È unico! Apri una confezione di Ritter Sport. Coloralo con lo spray alimentare d'argento. Fai una confezione personalizzata. Che bella tavoletta di cioccolato! Ne vuoi un po'? Ne vuoi un po'? Grazie! Ehi! Te ne ho offerto un pezzo! Questo è per te! Puro cioccolato d'argento! E non dimenticare di votare per me! Non preoccuparti! Il tocco finale! E i miei capelli sono fatti! Sono perfettamente lisci! Proprio come volevo! Ho bisogno di un po' d'aria fresca! C'è un vero tornado qui! Povera ragazza! Ti sei rovinato i capelli, eh? Oh, cavolo! I miei capelli sono rovinati! Ma so cosa fare! Un fermaglio d'argento sistemerà tutto! Meraviglioso! Ciao a tutti! Ecco il momento che tutti aspettavate! Annunceremo la vincitrice di Miss Universo! E l'Oscar d'oro va! Ad argento! Congratulazioni! Cosa? Un Oscar d'oro! Davvero! Unisci il cioccolato bianco fuso e il cioccolato al latte. Aggiungi un colorante alimentare liposolubile. Versa il composto in una sac à poche. Riempi uno stampo per Oscar con il cioccolato. Crea una base di cioccolato fondente. Non appena il cioccolato si è indurito, unisci le metà. Rivestilo con polvere perlata commestibile. Il secondo classificato è... Oro! Questa medaglia d'argento è per te! Non c'è niente di cui essere felici! Una medaglia d'argento? Cosa potrebbe esserci di peggio? Oro ha un'idea! Facciamo scambio! Tu prendi l'oro e io l'argento. Evviva! La medaglia è mia! Idea fantastica! Mi piace! L'Oscar d'oro è mio! È delizioso! È io! Oh sì! Tu ricevi un premio di consolazione. Prendi un dolcetto. Stupida gara! Non c'è nessuno. Non ho bisogno di nascondermi. Sono stufo di questa stupida maschera. Mi rovina sempre i miei fantastici capelli. Una borsa per laptop. Fantastico! Un portatile d'argento? Rivesti un laptop con vernice spray per cromature. Beh, oro. Mi divertirò un po'. Perdente! Oh, ciao! Ciao anche a te! Prima tu! Ciao, perdenti! Come osa! Ti daremo una lezione! Ehi, ragazze! Stavo scherzando! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto cosa ti è piaciuto di più. Le patatine d'oro? La bomba da bagno? L'Oscar commestibile? O il luccicchio d'argento? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom! 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 Troom!